Cavallaria Paesana, a predica di augurato, cari parrocchiani, domenica prossima, Monsignore ci farà l'onore di venire in nostro paese per l'inaugurazione di un campanile. L'arco di trionfo sarà montato faccia a casa di Zulon Santo Falcone, che ci farà è lui piacere di sbarrazzare quegli roghi, di carchi di mucchi, di eregne e di tutta quella farraia con un così bello spettacolo. Sarete presenti a tagliare il paro che non si è mai risa e le donne poco fardate la maschera di carnavale. E Zitillette di ugore si sforzarà nei cantagliusti, poi una volta le farà male. L'uomo cercarete di cacciare il cappello da un capo, con i pochi un'età è giurato. I Zitelli tinaranno in mano due bandiere bianche scritte e biva Monsignore. Una, in ogni mano non ci sarà pensiero di avere l'età del naso. Ponte peso la mano, brinarete tutti insieme e biva Monsignore, ma mica con la stessa intonazione che biva Mery. Uguale Mery sarà presente, con la sciarpa cinta, intondato da tutto il Consiglio Municipale, che poi la volta sarà riunito completo. Quando Monsignore presenta l'anello a bacia, inutile di precipitarsi, di imbeste e di fregarsi, con il pardone piscopalo nel piccola questione di vittezza. Un discorso vesco sarà detto da Anna Maria. Se all'ultimo momento Anna Maria si scorda il suo complimento, non avrà a carattaccesi, che Monsignore, la Maria la conosce forse meglio che a me. Vi ricommando di tenere i vostri agari e i vostri sumeri liati fuori dal paese. Un sumere ha bello che è un animale di Dio, un sorronco non fare una così bella figura, non è una cerimonia sagra. Mery c'è re, anche San Giuseppio ha avuto bisogno di un sumere, ma era un loro eserto e non c'era un Cuesco che ne faccia caso. Sabato, vi n'erete tutti a confessarvi. Domenica mattina, Comignone Generale, per cui io esco, vi trovi tutti scialbati e di fresco. Non fate tanti peccati, è un perdito di vista, chi ha spara di a justizia di Rio spacco un capello un quattro. In notte è un concetto, è più aguta che la lingua ricerta con mare che non ne spostano mai, e chi faria meglio l'occuparsi della sua cucata e dei suoi piatti, mica rimettovi sbigli in un paese con i suoi ricambiti, a me così sia. Grazie. 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 Grazie.